Residenti in piazza Tenente Iacovone a Sulmona ci segnalano una difficoltà sul manto stradale. Sul marciapiedi, in prossimità del civico numero 19, sono stati fatti dei lavori forse per esigenze delle condotte telefoniche. Però è stata lasciata una mastabuca sia pure segnalata con cavalletti, protetta con cavalletti e altre segnalazioni stradali. Ma ignoti hanno gettato via i cavalletti ed hanno lasciato la buca scoperta di qualsiasi segnalazione e protezione. La stessa può costituire pericolo di caduta sia per gli anziani che per i bambini che proprio lì transitano spesso con le piccole biciclette. Allora, cos'è successo questa buca dove è facile inciamparci per i bambini, per gli anziani? Che cosa è successo? Sì, come cittadino ho il dovere di manifestare questo scandalo, questo schifo che inizialmente, fino ai lavori, sono stati messi i cavalletti con la segnaletica dovuta, messa per bene. Durante la notte dei ragazzi, sconsiderati, dei vandali, hanno scatrassato, hanno sfasciato questi cavalletti, uno l'hanno depositato vicino al portone d'ingresso. E quindi è rischioso? Quindi la questione è delicata e pericolosa, anche perché chiunque si può fare male, una persona anziana, dei bambini con la bici che facono un carrozzino, la buca non è più protetta. Esatto. Quindi io come cittadino mi preoccupo. Quindi lei chiede che venga messo a mano... Che venga qualcuno che sostenga questa situazione. Esatto. Per la sicurezza. Perché anche è brutto puro vedere. Anche esteticamente fa schifo. Esteticamente è uno schifo. Quindi... Va bene. Speriamo che si faccia vivo qualcuno.